Antitraffico in città, lunedì sperimentazione in Viale Santa Panagia. Al via lunedì prossimo una fase di sperimentazione per snellire il traffico delle auto lungo Viale Santa Panagia. Il settore mobilità e trasporti ha pubblicato un'ordinanza che prevede lo spegnimento del semaforo posto all'incrocio con Via Bulgaria e la chiusura del corrispondente attraversamento dello spartitraffico. In prossimità di Via Bulgaria è stato previsto un attraversamento pedonale del Viale. Il passo successivo, se tale scelta non dovesse risultare sufficiente, potrebbe essere quello di invertire il senso di marcia del controviale così che gli automobilisti diretti verso la rotatoria posta all'incrocio con Via Augusta e Via Europa possono avere una strada alternativa in caso di traffico eccessivo su Viale Santa Panagia. Siamo molto attenti alle segnalazioni di disagio fatte dai cittadini. La viabilità, afferma l'assessore alla mobilità e trasporti Maura Fontana, è un fattore che incide sulla vita di tutti noi e siamo impegnati a cercare e trovare le soluzioni migliori, talvolta rese difficile dalle stesse caratteristiche urbanistiche della città. Grazie. 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 Grazie.